Un saluto a tutti voi dalla redazione, ben ritrovati al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Cominciamo con la sanità, anzi un'ampia pagina dedicata alla sanità quest'oggi partendo dai concorsi banditi dall'ASREM per stabilizzare 140 operatori sanitari e altri 140 provenienti dalla mobilità di fuori regione. L'associazione dalla parte del cittadino e anche alcuni artisti sono scesi in campo chiedendo di bloccare la procedura e attivano lo studio Iacovino per contestare dal punto di vista giuridico il bando. Sentiamo. Dopo anni di blocco del turnover per il personale sanitario sembrava imminente la stabilizzazione dei precari ma il bando annunciato mesi fa e accompagnato dal rullo dei tamburi non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, un bando peraltro contestato dagli stessi precari e da alcune associazioni che prevede l'assunzione di sulle 140 unità con concorso a fronte di circa 320 diritto alcuni dei quali lavorano con l'ASREM da oltre 20 anni. Donato Frate, associazione dalla parte del cittadino nonché segretario regionale della democrazia cristiana, ha già attivato lo studio legale Iacovino. È un bando innanzitutto che segue una procedura concorsuale a tutti gli effetti e quindi voglio dire noi saremmo dell'avviso che di fronte a precari che hanno anche 20 anni che prestano la loro professionalità per il servizio sanitario nazionale è giusto che ci sarebbe una graduatoria di merito a scorrimento e uno perché i posti a disposizione sono nettamente inferiori alle domande che perverranno. Avete già attivato uno studio legale, lo studio Iacovino mi sembra. Noi ci siamo rivolti allo studio Iacovino e praticamente io anche oggi pomeriggio mi sono sentito col collaboratore, con l'avvocato Fiorini che conferma che ci sono comunque delle criticità su questo bando. Da quello che abbiamo verificato sembra che ancora sia pubblicato quindi secondo me ci sono tutte le condizioni perché intanto le persone interessate non possono ancora presentare domande. Ci sono le condizioni affinché l'ASREM, l'assessorato regionale, la presidenza della giunta possano intervenire per bloccare o rettificare in autotutela questo bando. In difesa dei precari della sanità è sceso in campo anche il noto artista musicale Gio Bavota. Scendo in campo perché io credo che si stia facendo una grandissima ingiustizia e c'è gente che ha, persone che stanno lavorando appunto da oltre quasi 20 anni e che praticamente hanno già quest'incubo addosso che si portano da tantissimi anni. Lavorano male, io vivo questa situazione anche con amici che me ne parlano perché stando in mezzo alla gente come artista insomma mi confronto. Faccio appello alle istituzioni, a chi può veramente fermare questa situazione? Fermare questa macchina significa dare ulteriore proroga agli infermieri attualmente in servizio? Io mi auguro che questa macchina non la facciano con proroga ma la blocchino proprio perché ci sono persone veramente che stanno dando l'anima e che in ospedale si parla sempre anche di male sanità ma ci sono persone che veramente vivono questa situazione in ospedale e danno l'anima ai pazienti e sono lì col sorriso ma stanno vivendo veramente un'angoscia tremenda. Nelle prossime ore è previsto un vertice tra la Direzione Generale per la Salute, l'ASREM e i sindacati e secondo indiscrezioni potrebbe essere decisa l'ennesima proroga per i precari e qualche modifica sulle modalità di selezione previste dal bando. I solidi bene informati però ipotizzano l'attivazione delle procedure in coincidenza delle elezioni regionali per ovvi motivi di convenienza elettorale. E negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di medicina di genere perché le patologie spesso colpiscono in modo diverso gli uomini dalle donne. Per questo bisognerebbe riscrivere praticamente i testi di medicina. Se ne è discusso all'Ordine dei Medici a Isernia. La medicina di genere oggi convegno all'Ordine dei Medici. Perché parlare di medicina di genere che sembra qualcosa di un po' incomprensibile per la massa? La medicina di genere innanzitutto dobbiamo dire che non è una medicina che riguarda solo la donna. È una medicina che riguarda solo la donna e anche l'uomo. È una medicina innovativa insomma una nuova dimensione della medicina perché fino a 20 anni fa la medicina era una medicina androcentrica in quanto tutta l'attenzione veniva centrata sul maschio. Quindi la donna diciamo che era come una copia del maschio un piccolo uomo. Però finalmente si è capito che praticamente una malattia può essere influenzata dal sesso. Quindi una stessa malattia può presentarsi in maniera diversa con un decorso diverso quindi avere anche una terapia diversa nell'uomo e nella donna. Ovviamente resta da capire quali sono i meccanismi che determinano una patologia del genere. Quindi dobbiamo prepararci a dare da un medico gli uomini da un medico e le donne da un altro? Allora io credo questo che il medico che sta visitando il paziente in ospedale per una patologia adesso sa che nel momento in cui ha visitato il maschio ma nel momento in cui vada a visitare la donna deve assumere un atteggiamento diverso. Questo diciamo è un po' il senso e tutto questo per ottimizzare al meglio la terapia e la diagnosi. Passiamo alla rassegna dei giornali online di quelli che troveremo oggi in edicola. Cominciamo con il giornale del molise.it. Iorio dice no ai profughi nel villaggio di San Giuliano di Puglia cresce il fronte contrario a questa ipotesi. Anche l'ex presidente della regione prende posizione. Un no ribadito anche dalla mozione presentata in consiglio regionale che attende però di essere ancora discusse. Il centro dovrebbe ospitare 500 migranti. Se ne sono già chiesti 250. Abbiamo visto nei giorni scorsi le riunioni in prefettura con i sindaci del cratere che dicono di no e il no portato avanti in particolar modo dal senatore Ulisse Di Giacomo. Parliamo poi della questione dell'obitorio al veneziale di Isernia. Se questo è un uomo Marcello Pizzi, la salma del fondatore del bene comune, finisce in un ripostiglio. Poi da Isernia i vigili del fuoco con l'estate rovente sul fronte degli incendi sono stati triplicati gli interventi e da Porto Canone si ribalta con l'auto nella notte 23enne in ospedale. La pirateria informatica apre la page di Futuro Molise, due imprenditori molisani nei guai e poi di spalla il centro storico di Venafro e tutta una desolazione. Non si intravedono interventi per rimediare e rilanciare gli antichi quartieri. La Will con il segretario Boccardo parla dei fondi comunitari, quando i soldi ci sono non si è capace nemmeno di spenderli. Tafferugli a Vasto, identificati dalla polizia una decina di tifosi del Campobasso al termine della partita contro la Vastese. Passiamo ai quotidiani locali che oggi troveremo in edicola, cominciamo con Primo Piano che apre con la politica Forza Italia Iorio, deve essere della partita ma per la regione serve un outsider, la coordinatrice Anna Elsa Tartaglione invoca l'unità del centrodestra, il Presidente ha dato tanto, ora è necessario un candidato condiviso da tutti, ha detto gli azzurri avrebbero voluto puntare su Pietracupa, stimato dai molisani però sapevamo che sarebbe stato alzato un muro. Nel cassettone, start up e formazione da Palazzo Vitale, fondi aggiuntivi per favorire l'occupazione e poi patto per il Molise, frattura ha già utilizzato circa il 25% delle risorse disponibili. Nel centro pagina, giornata dell'emigrazione, premi a chi si è distinto all'estero e poi di spalla l'ottizzazione di San Giovannello, maggioranza spaccata e consiglio rinviato. La notizia arriva dal Consiglio Comunale di Campobasso, la festa di Santa Barbara festeggiata dai Vigili del Fuoco e poi lo sport, Rupi ripresa del lavoro anticipata di un giorno, incidenti a vasto, chiesto il daspo di gruppo per i tifosi che al termine della partita si sono macchiati e si sono resi protagonisti comunque di Tafferugli fuori dallo stadio. Vediamo il quotidiano che sceglie invece un'apertura diversa parlando di lavoro, occupazione, nuovi fondi per il rilancio, li ha impegnati la Regione, un milione e mezzo di euro per start-up e lavoratori, fratture veneziale, sosteniamo la crescita. Nel cassettone, progetto tunnel a Termoli e al vaglio del Consiglio dei Ministri, a breve il verdetto, poi le proiezioni di un on-camere, oltre 3.000 posti di lavoro nei prossimi due mesi e patto per il Molise, De Vincenti elogia il lavoro della Regione. Anche qui spazio alla giornata dell'emigrazione che si celebra domani con gli eventi della terza edizione che sono stati illustrati ieri, la festa di Santa Barbara celebrata dai Vigili del Fuoco a Campobasso e a Isernia e in fondo lo sport con il Campobasso, la società revoca il giorno di riposo alla squadra e poi per il tennis grande successo per l'evento di domenica al Pala Unimol e ora vediamo i quotidiani nazionali. Soprattutto la questione della Banca Etruria occupa le aperture di quasi tutti i giornali, il Corriere della Sera si riapre lo scontro su Etruria, nuove accuse da MDP e Movimento 5 Stelle, Boschi vicenda usata per attaccare me e il Partito Democratico, il procuratore di Arezzo dopo i silenzi in commissione scrive a Casini. La fotonotizia riprende il presidente della commissione Juncker e la premier britannica Teresa May, simbolica questa foto quasi, che Juncker voglia accompagnare fuori dall'Unione Europea la Gran Bretagna con la Brexit all'ultimo ostacolo. Sono fiduciosa, ha detto Teresa May, dopo il colloquio con i vertici dell'Unione Europea, restano nodi da risolvere per chiudere la prima fase della trattativa sull'uscita di Londra dall'Unione Europea, il principale è lo status dell'Irlanda del Nord, se per il Partito Popolare non deve essere blindata la frontiera. C'è un'altra notizia che riapre la questione o comunque tiene desta la questione della Corea del Nord, l'aereo di linea che ha incrociato il missile di Kim è la Catai Pacific in volo tra San Francisco e Hong Kong la notte del 29 novembre quando è stato lanciato il razzo. Abbiamo visto un missile esplodere e precipitare nei pressi della nostra attuale posizione, ha riferito il pilota al personale di terra. I testi di Pyongyang sono un rischio potenziale per decine di jet di linea, un effetto collaterale che finora non era stato preso in considerazione. La Repubblica apre con l'Etruria, scontro sul caso Boschi, il Movimento 5 Stelle sul PM Rossi, omissioni inquietanti, il magistrato chiarito in commissione, la sottosegretaria basta ora faccio causa, suo padre rischia anche per il filone consulenze. Di spalla come è di consuetudine da qualche giorno, da quando Repubblica ha cambiato veste tipografica, il costituzionalista Michele Ainis, il senato che riscrive le regole, poi Benedetta Tobagi, la figlia di Walter Tobagi, assassinato dalle Brigade Rosse, l'allora giornalista della stampa, il drappo BR e gli odiatori senza memoria e poi come parlare a scuola del fascismo e bimbi perduti, l'altra verità dopo 20 anni, dopo in provincia di Modena vengono allontanati 16 bambini dalle famiglie accusati di far parte di satanisti, ma è tutto vero quello che hanno raccontato i bimbi a scuola e c'è questa idea di Yenner Meletti e Pablo Trincia. Anche la fotonotizia di Repubblica riguarda la pagina estera, ma stavolta è Trump protagonista, bando agli immigrati, Corte Suprema dà ragione a Trump dopo le tasse e un'altra vittoria per il Presidente degli Stati Uniti, il suo Muslim Ban, legge dello Stato, l'ha deciso la Corte Suprema, il massimo organo della giustizia americana, rovesciando le sentenze dei livelli inferiori della magistratura, Trump ha ora la possibilità di vietare negli USA ai cittadini di otto paesi, di cui sei a maggioranza musulmana, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza nazionale. Vediamo la prima pagina della stampa che apre invece con la politica interna, Aperti a grasso, tentazione del Movimento 5 Stelle, Grillini in cerca di intese per il governo, ma liberi e uguali, deve fare un buon risultato, il Presidente del Senato prepara un tour per l'Italia, Parisi guarda al passato, piano di gentiloni per non scivolare sullo ius soli. La vicenda di Banca Etruria finisce in questo box, Commissione Banca, il Vice Presidente basta audizioni sull'Istituto di Arezzo. La fotonotizia invece arriva addirittura dal Nepal, dal Giappone, la locanda che non chiude da 1300 anni, dagli alberghi ai gioielli, viaggio nelle aziende familiari in attività da secoli fra Europa e Giappone, il Ryokan, si chiama così questo albergo tradizionale giapponese Oshii, è stato aperto nel 717 e ha appena compiuto 1300 anni. La prima pagina del messaggero quotidiano di Via del Tritone, della Capitale, invece riprende un po' l'impaginazione che abbiamo visto sul Corriere e sulla Repubblica, il Pubblico Ministero si difende scontro su Boschi, caso Etruria Rossi mai nascosto che fosse indagato, la Segretaria c'è un attacco al Partito Democratico, dossier della Consob sulle responsabilità dell'ex Consiglio di Amministrazione della Banca, occultò i rischi dell'investimento e anche sul messaggero la fotonotizia è per Juncker e Theresa May, Brexit stallo sui confini irlandesi, inglesi delusi dalle mosse del Premier britannico. Anche Libero apre con le banche, ma con un taglio leggermente diverso, ladri nelle banche e nel libro di Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, il manager Ghizzoni rivela che gli istituti di credito hanno venduto in modo anomalo prodotti finanziari consapevoli che erano rischiosi per i risparmiatori, l'ex capo di Unicredit ammette appunto ladri nelle banche e poi una foto dedicata a Grasso che viene definito Gradasso, il Presidente del Senato diventa trombone per la sua scelta politica di guidare diciamo così l'area a sinistra del Partito Democratico. Per il fatto quotidiano le banche restano invece l'argomento centrale, la Boschi dopo sette mesi denuncia De Bortoli e intimidisce Ghizzoni proprio mentre la Commissione deve decidere se convocarla col banchiere, oggi si decide se quando l'ex amministratore legato di Unicredit andà in Parlamento a spiegare le pressioni ricevute dal sottosegretario e rivelate dall'ex direttore del Corriere in un libro, la mossa giudiziaria arriva dopo le polemiche sulle omissioni del pubblico ministero di Arezzo su papà Boschi indagato nel cassettone invece un milione di posti ma il miracolo non c'è, dice il commento su Renzi e poi dalla capitale Guerra Calenda Raggi, sindaca al contrattacco, lui le dà della turista, lei ecco le cifre del bluff. Due prime pagine diverse da quelle che abbiamo visto finora, quella del quotidiano della conferenza episcopale, avvenire non più sani e salvi, sanità emergenza per non autosufficienti e sud, biotestamento in aula, appello di medici contrari, fino a vent'anni di differenza nell'aspettativa di vita in salute tra Bolzano e Calabria, Lombardia una riforma che fa discutere, vedete richiamo sull'Etruria, è proprio qui sotto il cassettone e poi la notizia, la fotonotizia anche qui dall'estero però riguarda lo Yemen, ucciso l'ex presidente, lo Yemen precipita nel caos nel paese piegato dalla guerra, 20 milioni di persone a rischio e la prima pagina del manifesto invece è dedicata a questo fenomeno poveri d'assalto, a pochi giorni dal via il reddito di inclusione crea le prime difficoltà, i comuni sono nel caos, i CAF lanciano l'allarme, le nostre sedi presi d'assalto, i fondi non bastano, sono i primi passi di un provvedimento misero del governo contro la povertà. vi faccio vedere come è invece diverso il taglio della notizia della discesa in campo, chiamiamola così, di Piero Grasso, Piero sarà garante delle candidature, effetto Grasso, PD, nervosetto, diciamo il manifesto è abbastanza chiaramente contento, si intuisce dal tono del titolo di questa candidatura, Boschi indagato, bufera sul pubblico ministero la banca dell'Etruria. E poi c'è la prima pagina del tempo che è una vera e propria provocazione da un punto di vista giornalistico non proprio politicamente corretta, c'è stato il post su internet di cui si è parlato moltissimo, questo fotomontaggio di Salvini che rievoca foto degli anni 70 con il drappo delle Brigate Rosse e Salvini in Bavagliato, un fotomontaggio che addirittura riproduce la testata di Piazza Colonna, mettendo al posto di Salvini la Presidente della Camera, Laura Boldrini, polemiche sul fotomontaggio brigatista contro Salvini, social e politici indignati, tace solo il Presidente Boldrini e per questo motivo il tempo si prende la briga di titolare, di mettere la Boldrini sotto il drappo delle Brigate Rosse, scendendo allo stesso livello di chi ha messo questa fotografia sui social, tra il serio e il ridicolo, ma diciamo a nostro giudizio per quanto possa contare, nel ridicolo finisce una delle testate più importanti, storiche del nostro panorama giornalistico. Concludiamo la rassegna di oggi con la Gazzetta dello Sport, Spalletti come Murigno, parla Moratti, esclusiva con l'ex Presidente dell'Inter, la sfida di sabato con la Juve arriva al momento giusto, Perisic è tra i più forti in Europa, Icardi ha visione di gioco e segna, ora l'Inter può pronunciare la parola Scudetto, nella foto appunto ci sono Spalletti e Murigno che si stringono la mano, in una foto di repertorio chiaramente, e poi sotto il cassettone italiane avanti tutte, è l'interrogativo perché oggi comincia la due giorni di Champions con le sfide definitive nei gironi, la Juve è già qualificata ad Atene, in qualche modo si affida a Higuain, mentre la Roma è attesa da una serata storica, dice De Rossi, dopo il flop azzurro possiamo rifarci nelle coppe, stasera e domani Napoli per l'impresa col Feyenoord per continuare l'avventura in Champions, come Atalanta, Lazio e Milan, già qualificate in Euroleague e poi in basso, libro nero, Milan capitolo Benevento, che cosa salvare nell'incredibile pari con l'ultima in classifica, c'è qualche nota lieta, il risveglio di Kalinic e Bonaventura, diciamo che il primo fiasco è stato quello di Gattuso che aveva addirittura caricato a pallettoni la squadra, catalogando la partita col Benevento come una finale di campionato del mondo, diciamo il primo flop è stato proprio di Ringhio sulla panchina del Milan. Con questa notizia ci fermiamo e concludiamo la rasegna stampa di oggi che torna come sempre domani mattina alla stessa ora, vi invece do appuntamento all'edizione, alla prima edizione del nostro telegiornale alle 14 con la nostra informazione. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Gianluca Praetano che è stato oggi con noi in regia e a voi tutti, buona giornata.